Sono 171 i naufraghi che sbarcheranno a Taranto intorno alle 7 di lunedì 24 luglio soccorsi dalla nave Life Support di Emergency. I migranti sono stati soccorsi tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì in quattro distinti interventi in acqua internazionali nell'area di ricerca e soccorso maltese. La prima imbarcazione proveniva dalla Libia e le altre tre dalla Tunisia. In totale le persone a bordo erano 184, ma 13 naufraghi in condizioni di maggiore fragilità sono sbarcati a Lampedusa poiché eccedevano la capacità di accoglienza della nave. Erano nuclei familiari, una donna incinta e un uomo con ridotta mobilità alle gambe. I naufraghi provengono da Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Egitto, Eritrea, Mali, Senegal, Sierra Leone, Siria e Sudan. Il team sanitario di Emergency si sta prendendo cura delle persone a bordo. Sono disidratati, alcuni hanno riportato uscioni solari, molti lamentano dolori muscolari o hanno riportato piccoli traumi a causa della posizione naturale che hanno dovuto mantenere sulla loro imbarcazione durante la lunga attraversata. Inoltre tutte le persone soccorse sono provate dal punto di vista psicologico. In particolare dalla città di Sfax, da dove ultimamente partono tantissime di queste barche, barche di ferro, che sono delle barche altamente critiche nel momento in cui si trovano in mare, sovraffollate, con persone senza alcuna sicurezza e consapevolezza di dove si trovano. Grazie. 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 Grazie.